Ben ritrovati al nostro appuntamento con i giovani. Stiamo riflettendo in questo percorso su temi di attualità, però attraverso proprio la sensibilità giovanile. Oggi è un tema di grandissima attualità, cioè l'ambiente. Vedete, se ne parla in molti luoghi, sui media, nelle discussioni in famiglia. Però è interessante sentire proprio dalla viva voce dei giovani quando si parla di ambiente, di cosa stiamo parlando? Ecco, sappiamo bene che Papa Francesco si sta spendendo molto proprio su questo tema dell'ambiente. Ha scritto anche alcuni documenti tra cui l'ha laudato sì. E il Papa dice proprio questo. Dice, i giovani esigono dagli adulti un cambiamento. Si domandano com'è possibile costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi. E quindi, se il Papa appunto ci invita a riflettere, noi cogliamo questo invito e lo facciamo proprio con i nostri giovani. E partiamo da Maria. Maria, se ti dico ambiente, che cosa ti viene in mente? Beh, quando penso all'ambiente sicuramente penso a tutto quello che mi circonda. Però nello specifico penso ai green place e ai blue space, che altro non sono che gli spazi verdi e gli spazi azzurri, quindi natura, foreste e gli oceani, che comunque sono importanti per un benessere comunque fisico e psicologico e che è importante fin da piccoli imparare a vivere ma soprattutto a rispettarli. Sì, è importante sentirsi tutt'uno con l'ambiente. E proprio se ci sentiamo tutt'uno, forse siamo un po' spaventati dal cambiamento climatico. Non lo so, è interessante Gabriele sentire quello che pensi. Io nutro grande preoccupazione riguardo di questo tema. Sta parte anche dei miei studi in chimica in cui continuamente i professori ci tengono a ribadirci che è un'urgenza che deve essere al primo posto e come risolverla anche in alcuni corsi. Sta diventando sempre più preoccupante. Ogni estate è sempre più caldo di quella precedente, alluvioni di sassi naturali e siccità sono quasi all'ordine del giorno. Ma ciò che mi preoccupa ancora di più è questo clima di quasi indifferenza in questo tema che sto vedendo da parte di alcuni politici e rappresentanti del governo ad ogni livello, in tutte le istituzioni, ovunque, che parlano di ecofollie e così via. Questo è che mi fa più paura. Manuele, non ti vedevo perfettamente in linea con quello che diceva Gabriele. Cosa ne pensi tu? Ma siccome faccio scienze della natura, quindi un ambito particolarmente all'interno appunto dell'ambiente, vedo tantissimi casi controversi tra gli stessi scienziati. Infatti ci sono alcuni che dicono che è un problema che diventerà irreparabile tra pochissimo, altri invece che vanno completamente controcorrente e dicono che sì, è una situazione preoccupante, però non è dovuto principalmente dall'uomo. Alcuni dicono che addirittura che sia una causa naturale è che l'ambiente è sempre stato così abituato a fare cambiamenti climatici in maniera autonoma. Infatti noi non è che non siamo per niente colpevoli di tutto questo, anzi, però c'è da dire tuttavia che proprio le evoluzioni industriali che ci sono state hanno contribuito ad accelerare questo riscaldamento globale e di portarcelo a un clima praticamente insostenibile ora come ora. Infatti già nella costruzione delle case con il calcestruzzo e il cemento, infatti questi sono due materiali che tengono a intrattenere molto il calore e fanno sì che le città siano molto più calde rispetto alle campagne. Infatti sembra che negli ultimi due o trecento anni, cioè nel periodo delle rivoluzioni industriali, la differenza di temperatura tra le città e le campagne sia aumentata in maniera abbastanza ampia. Addirittura si parla anche di 5, 7, 8 gradi. Per cui sì, è un problema che stiamo causando noi, però è anche una naturale evoluzione dell'ambiente. Per cui bisogna preoccuparci, ma preoccuparci per sistemare questa follia che noi stessi abbiamo contribuito a creare, ma sì da due o trecento anni. Sì, quindi nessuno può sentirsi esonerato dal fare qualcosa. È vero Savio, tutti dobbiamo fare la nostra parte, ma cosa si può fare? Ecco, i giovani oggi si domandano cosa posso fare io per l'ambiente, per migliorare l'ambiente in cui vivo, ma anche allo stesso tempo l'ambiente mondiale. Sì, sicuramente possiamo adottare diverse tecniche, però comunque possiamo fare tanto per l'ambiente. Ricordiamoci che dobbiamo parlare di custodia del creato, perché comunque siamo di passaggio, un posto che ci è stato donato e lo stiamo, possiamo dire, anche maltrattando. Si possono avere tante piccole accortezze, posso pensare soprattutto al prendere meno l'auto, parliamo tanto di mobilità sostenibile, quindi in quel caso potremmo dare una grande mano all'ambiente. O anche posso pensare all'evitare di lasciare rifiuti per terra, ci sono tanti posti per poter occuparsi dell'ambiente e tanti modi per farlo. Mi ricollego ovviamente che l'ambiente non è soltanto qualcosa che possiamo occuparci noi, è stato parlato della politica, sicuramente bisogna avere anche quelle accortezze nella custodia del creato con la manutenzione del verde pubblico e avere accortezze anche in quello, quindi si potrebbe fare veramente tanto. Ci sono tante aziende che lo fanno, anche con il recupero degli scarti e quant'altro. Quindi magari informandosi si potrebbe anche puntare molto a questo. Gianluca, i giovani come te si domandano cosa posso fare io per l'ambiente, per il creato, per il luogo in cui vivo e allo stesso tempo il luogo in cui altri vivranno. Secondo me, anzi io vedo tutto il contrario, vedo che nella mia generazione c'è una situazione di grande menefreghismo nei confronti di questa tematica. Io penso che ognuno di noi nel nostro piccolo debba incominciare a cambiare proprio metodologia su questo problema, ad esempio inquinando di meno, cercando di evitare di buttare per strada le carte o qualcos'altro e riducendo soprattutto il consumo della plastica che va ad influire gravi danni in molti ambienti come per esempio nel mare. Sì, quindi piccoli gesti, ma allo stesso tempo credo bisogna essere informati anche su situazioni più generali e più grandi. È vero Fabio? Voi, i giovani come te, i tuoi amici, siete informati e anche la scuola contribuisce a informarvi su queste tematiche? Sì, certo. La scuola sicuramente parliamo delle tematiche dell'ambiente. Poi magari c'è chi sta a sentire e chi no, perché magari sono ore in cui uno non pensa veramente alle problematiche dell'ambiente, pensa più a un'ora di svago piuttosto che seguire ciò che dicono i professori. Noi abbiamo parlato a scuola dell'agenda 2030 con la quale gli stati hanno posto dei limiti, degli obiettivi appunto da raggiungere per cercare di controllare l'incontrollabile, cioè l'avanzamento del progresso che causa gravi danni all'ambiente. Si parla di auto elettriche, di auto ibride, ma anche appunto di limitare l'uso della plastica, la plastica biodegradabile che mira appunto a raggiungere un obiettivo che se noi mandiamo sempre diventerà un obiettivo utopico, magari mai raggiungibile. Bene, quindi l'informazione è importantissima, una presa di coscienza è davvero molto importante, ma anche oltre a quello che possiamo fare noi, possiamo diventare degli ambasciatori dell'ambiente, quindi cosa possiamo fare noi per influire positivamente, diventare noi degli influencer in tema ambientale sulla nostra generazione, insomma su chi ci sta intorno. Quindi per esempio se vedo un comportamento sbagliato di qualcun altro, che faccio? Maria, tu che fai? Ti giri dall'altra parte? Intervieni? Dipende secondo me dal contesto e da chi viene fatto, perché se è una persona che non conosco posso pure andare a dire guarda il comportamento è sbagliato, però la persona si volterà sicuramente dall'altra parte. Mentre se vedo comportamenti comunque inadeguati o comunque un mio amico che invece di buttare la carta nel cestino che sta 5 metri più avanti la butta a terra, diciamo che la sgridata comunque in qualche modo gliela faccio. Poi come futura maestra, diciamo che questo lo posso vedere pure a scuola, nei momenti di tirocinio che comunque ho vissuto, vedevo i bambini che buttavano la carta nel cestino della plastica e dell'indifferenziata e là comunque facevo tutto un discorso per spiegargli l'importanza comunque di fare il riciclaggio ad esempio. O se partiva il discorso delle uscite in macchina, gli dicevo di spegnere comunque la macchina quando si parcheggia comunque per aspettare un amico per esempio. Quindi sì, noi possiamo diventare ambasciatori comunque di messaggi positivi anche nelle piccole cose, nei piccoli discorsi che escono ogni giorno. Sì, Gabriele, quindi in attesa che la politica si svegli, cosa possiamo fare noi? Come possiamo essere noi i primi influencer di un modo nuovo di approcciarsi alle tematiche ambientali? La prima cosa imprescindibile da fare è informarsi e studiare l'argomento. Non si può fare nulla su questi argomenti se prima non ci si informa. Perché se uso la macchina inquino? Perché devo differenziare i rifiuti? Perché invece la macchina elettrica è meglio? Ci sono tutte cose piccole che bisogna conoscere. Poi con la voglia si può anche andare a studiare argomenti un po' più complessi la CCS, la sintesi dell'idrogeno pulito e così via. Ma bisogna prima partire da queste cose piccole, conoscerle e poi poterle applicare alla vita quotidiana e soprattutto fare quello che stiamo facendo ora, parlarne. Non solo nei salottini accademici o televisivi con gente importante ma al mercato, al bar, al supermercato, in mezzo a noi bisogna parlarne perché bisogna esserne consci. Perché da soli non si può fare nulla ma se siamo tutti a fare azioni concrete e utili il cambiamento è possibile. Emanuele, possiamo fare qualcosa? Sì, assolutamente possiamo fare qualcosa per cambiare i nostri modi di essere i nostri comportamenti per ridurre l'impatto ambientale però c'è da dire che l'impatto ambientale delle persone pubbliche quindi io, Maria, Gabriele, tutti insomma è responsabile siano del 30-40% di ciò che ci circonda la maggior parte dell'inquinamento è dovuto ai privati che praticamente se ne infischiano dei beni dei cittadini e tendono ad inquinare per cui bisogna sensibilizzare innanzitutto le persone su ciò che si sta vivendo su quello che sta succedendo attorno a noi e poi cercare di cambiare queste industrie private da dentro per far sì che riducano il loro impatto ambientale che è proprio quello che danneggia il nostro pianeta. Sì, siamo vicini al centenario del Cantico delle Creature San Francesco appunto scrivendo questo bellissimo cantico questa bellissima lode a Dio ha messo in evidenza i quattro elementi fondamentali che costituiscono la vita umana e che già i filosofi avevano messo in evidenza cioè l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco ecco, su questi quattro elementi che oggi si giocano anche le battaglie, le guerre noi cosa possiamo fare? Direi che questi sono quattro elementi se ne parlava cent'anni fa nel Cantico delle Creature però io sono dell'idea che adesso viene proprio almeno il rispetto il rispetto di ciò che ci circonda il rispetto del prossimo e anche l'informazione in quel caso dobbiamo informarci noi in primis e a quel punto oltre che informarci noi bisogna avere informazione anche dall'alto nel mondo della politica che potrebbe fare tanto parliamo tanto di ambiente ce ne preoccupiamo ci sono tante associazioni che ne parlano e cercano di dare il loro contributo però talvolta non ci se ne vuole occupare in maniera approfondita o magari non ci si riesce perché sì, è un argomento complesso però manca proprio lo studio in quell'ambito che sarebbe molto importante per poter promuovere non so, anche ad esempio il PUMS il piano urbanistico della mobilità sostenibile che è un qualcosa importante al giorno d'oggi e che potrebbe veramente dare una mano all'ambiente però al momento bene, e il messaggio francescano Gianluca può essere di stimolo per le nuove generazioni? sì, sì, penso che il messaggio che dice cent'anni fa padre Francesco possa essere un ottimo input proprio per fare una riflessione su quanto l'ambiente ci può offrire per esempio fuoco, luna, sole, acqua anche se noi sfruttiamo questi mezzi per motivi negativi uno fra questi più importante e il più attuale è forse la guerra bene, in un ambiente sano, salutare si può vivere meglio è vero Fabio? vivere in un ambiente ricco di ossigeno insomma di area pulita di acqua pulita ci aiuta a vivere meglio e questo è il messaggio che dovrebbe passare secondo te? certamente, perché appunto vivendo nelle città dove è elevato l'uso delle macchine ma anche di mezzi pubblici o magari di fabbriche che inquinano l'aria è molto più facile riscontrare malattie come tumori e appunto invece vivendo in magari in territori dove c'è l'enorme presenza di parchi di verde come le montagne questo è molto meno probabile perché appunto avendo molto più sceglie di disposizione al posto di quest'area sporca che respiriamo a noi tutti i giorni è molto più difficile riscontrare queste malattie personalmente infatti a me piace molto andare in montagna e ogni estate ci vado appunto per uscire da questa zona molto inquinata in cui noi viviamo va bene quindi l'augurio che facciamo è che la sensibilità ambientale possa diffondersi sempre di più tra le nuove generazioni e creare una sensibilità nuova un approccio nuovo dove tutti possano fare la loro parte questo credo sia l'augurio che ci facciamo tutti come avete detto anche voi è importantissimo non perdere tempo iniziare da subito e iniziare da noi questo creerà opinione pubblica e l'opinione pubblica riuscirà anche ad influenzare le decisioni dei governanti bene allora che l'ambiente in cui viviamo sia sempre migliore e che lo possiamo custodire perché anche questo è un messaggio religioso molto forte e che davvero la nostra vita possa essere più felice e più salutare grazie ci vediamo alla prossima puntata grazie grazie